Ora si vamos a tener muchos amigos Allora Veronica, Mister Amigo, che cos'è in particolar modo? Amico, lo fanno con una persona la più famosa che ha fatto più successo nell'anno nel lavoro come attrice, come cantante o come scrittore o come regista Qualsiasi lato aspetto di spettacolo E questa volta è toccato a me e io sono veramente contenta perché negli Stati Uniti abbiamo un rapporto di amicizia Ma ogni tanto dobbiamo essere più vicini Ancora di più Sì, ancora di più Poi perché abbiamo dei problemi Tanto siamo con la divisione questa che abbiamo tra gli Stati Uniti e il Messico E lavoriamo tanto e sempre andiamo a lavorare negli Stati Uniti Ci sono tanti latini che abitano lì Che davvero questa amicizia per me è stata molto molto importante E abbiamo fatto una bella figura quest'anno perché abbiamo lavorato troppo Siamo andati tante volte a New York, a Miami Abbiamo avuto anche dei problemi con Miami Con tutti i cubani che erano arrabbiati perché sono andata a fare un programma in Cuba Ma adesso quando hanno tolto una stella adesso mi chiamano per mettere e per fare due stelle sulle strada E poi Bronzeville per me è stato bellissimo perché mi hanno regalato diciamo la chiave per entrare e per essere una texana di cuore